Ieri sono iniziate le partite dei recuperi per la 29esima giornata di Premier League, 5 tra stasera e domani. Ha dato il via alle danze, ieri, il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, terminato con il punteggio di 5-0 in favore dei Gunners. Questa sera c'è un'altra stracittadina da seguire, quella che vedrà il Liverpool in trasferta a Goodison Park contro l'Everton. Concluderà la serie di recuperi il Manchester City di Guardiola impegnato giovedì sul campo del Brighton di De Zervi. Stasera.Wolverhampton, Bournemouth, 20 e 45. Wolverhampton, 3-5-2, Ossesa, S. Bueno, Kilman, Totti, Doherty, Lemina, Gomes, Doyle. Aitnuri, Sarabia, One. Allenatore, O'Neill.Bournemouth, 4-2-3-1, Neto, Aarons, Zabarni, Senesi, Kelly, Cristi, Cook, Semenio, Klaivert, Kerketz, Solenchi. Allenatore, Iraula.Crystal Palace, Newcastle, 21. Crystal Palace, 3-4-3, Anderson, Klein, Richards, Anderson, Mugnoz, Ahamada, Hughes, Mitchell, Olise, Mateta, Ede. Allenatore, Glasner.Newcastle, 4-3-3, Dubraka, Murphy, Kraft, Schar, Bern, Anderson, Bruno Guimaraes, Lonstaff, Gordon, Isaac, Barnes. Allenatore, A.Everton, Liverpool, 21. Everton, 4-4-1-1, Pickford, Young, Tarkovsky, Brandt-Ate, Mikolnko, Harrison, Onana, Gae, McNeil, Ducure, Calver-Luin. Allenatore, Daesh.Liverpool, 4-3-3, Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Zzobozlai, Endo, McAllister, Salah, Nunez, Luis Dias. Allenatore, Klopp.Manchester United, Sheffield United, 21. Manchester United, 4-2-3-1, Onana, Dalot, Casimiro, Maguire, Wan-Bissaka, McTominay, Maino, Garnoccio, B. Fernandes, Rashford, Hoylund. Allenatore, Tenag.Sheffield United, 3-5-2, Grbic, Bougal, Ahmed Odzic, Trasti, Mekati, Vinisusa, Arblaster. Amer, Osborne, Brereton-Dias, McBurnie. Allenatore, Wilder.Domani.Brighton, Manchester City, 21.